Quante pizze avremmo fatte? Migliaia! Oh, davvero, almeno 1.500 pizze. Ma proprio a noi ci dovevate pregare con le pizze. Un pizzo, non pizze, sempre la medesima precatura. No, è che qua si crepa, guarda. Questo non è un posto da cristiani, è un posto da bestie. Ce lo dico io, per quelle 200.000 euro al mese più la quota mance. Ma perché la piglia d'anno con questo posto qua? Forse canata parte il migliore. Tutto uguale, gente, strid, pizze di fritta e figlie puttane. E allora? Ah si, ma c'ha ragione lui, è un posto meglio di tanti altri. E poi 200.000 euro più le mance, un sacco di soldi, altro che. Uno ci può fare tante cose. Si, cosa ci fai? Beh, tanto puoi mettere su casa. Ma te la casa ce l'hai cosa? Te ne frega? No, mia. Non quella specie di albergo dove stiamo adesso. Insomma, una casa mia, ecco. Ma che ti vuoi sposare? Ben perché, se anche fosse... Ma ma... ... ...